questo tappabucchi è tratto dalla live twitch sull'ottica geometrica ricordati di iscriverti al canale bestia esercizio numero 1 abbiamo per il primo esercizio a che fare con uno specchio convesso in particolare facciamo finta che questo è lo specchietto retrovisore della vostra macchina voi state guidando o siete sulla sedile del passeggero guardate nello specchietto retrovisore quindi quasi siete voi che da qualche parte avete il vostro occhio onnisciente che guarda vedete la polizia che vi sta inseguendo da dietro non è un'auto della polizia facciamo finta che è proprio un poliziotto che vi insegue particolarmente atletico voi ve la fate giustamente sotto anche perché questo poliziotto che vi arriva alle spalle ha un'altezza di due metri è un armadio umano che corre praticamente vi sta raggiungendo il poliziotto si trova a 10 metri dalla vostra auto per essere un po approssimativi diciamo che sta a 10 metri dallo specchietto il raggio di curvatura del vostro specchietto è di 40 centimetri vogliamo sapere quanta è grossa l'immagine del poliziotto che vedete nello specchietto e volete anche sapere dove si trova l'immagine del poliziotto qui ragazzi come vi dicevo visto che non ce l'ha chiesto non dobbiamo fare tutto il disegno immagine robe strane ci interessa solo rispondere alla domanda e visto che le formule sono poche vedrete che è un secondo è proprio un attimo la prima domanda è quanta è grossa l'immagine del poliziotto cosa ci sta chiedendo ci sta chiedendo hi hi cioè l'altezza dell'immagine compare in una formula sola in questa chi sono g e h 0 h 0 è l'altezza del poliziotto questa ce l'abbiamo lui è alto due metri g è l'ingrandimento ma non ce l'ho non so di quanto mi ingrandisce o mi riduce l'immagine lo specchietto però attenzione g si può trovare perché c'è l'altra parte della formula di g g infatti è anche meno di fratto di 0 quindi se io sfrutto questa roba qui per trovarmi g posso trovarmi hi benissimo posso trovarmi g in questo modo il problema è di 0 ce l'ho perché so che il poliziotto si trova a 10 metri dall'auto di 0 vi ricordo che è la distanza dell'oggetto dallo specchio però mi manca di i come faccio a trovare di ho soltanto una formula che mi avanza da questo argomento quindi dovrò usare quella per trovare di devo usare 1 fratto f uguale a 1 fratto di 0 più 1 fratto di i è l'unica altra formula che c'è qua dentro posso usare questa formula per trovarmi di i di 0 ce l'ho sono 10 metri d è quello che devo trovare mi manca f mannaggia siamo sempre lì ci manca sempre un pezzo però qui arriva il trucco in tutti gli specchi sferici c'è una relazione molto stretta tra r cioè il raggio di curvatura ed f che è la distanza focale la formula che andiamo a sfruttare noi adesso è questa f è la metà del raggio di curvatura questo sempre in tutti gli specchi sferici con cavi convessi o questo lo posso calcolare finalmente perché r ce l'ho vale 40 centimetri cioè 0,40 metri fratto 2 e quindi f sono 20 centimetri 0,2 metri ora vado al contrario e piano piano mi ricavo tutte le grandezze che mi servono fino a tornare ad hi vedete che non ho fatto altro che usare le formule e finora non ho dovuto minimamente tenere conto del fatto che quello sia uno specchio concavo convesso robe strane adesso devo tenerne conto perché f è la distanza focale io non so se è positiva o negativa come faccio a saperlo se lo specchio è convesso come in questo caso il fuoco si trova dietro lo specchio quindi in realtà la distanza focale è negativa non mi esce dalle formule me lo devo ricordare io quando vado a calcolarmi quei 20 centimetri di f in realtà alla fine io devo ricordarmi di aggiungere un meno benissimo buttiamo questi 20 centimetri nella formula qui al posto di f io mi scrivo meno 0,2 di 0 abbiamo detto che era 10 metri l'unica incognita è di i che adesso devo calcolare calcoliamoci di i per calcolare di sposto un decimo a sinistra e quindi ottengo meno 1 fratto 0,2 meno un decimo uguale a 1 fratto di i a sinistra adesso posso fare l'MCM tra quelle due robe lì al denominatore meno l'MCM tra 0,2 e 10 è il prodotto dei due cioè meno 2 al numeratore o meno 10 meno 0,2 il denominatore non almeno uguale a 1 fratto di i al numeratore posso fare i calcoli meno 10 meno 0,2 è meno 10,2 meno 10,2 fratto 2 fa meno 5,1 1 fratto di i è meno 5,1 quindi mi trovo di i di i è 1 fratto meno 5,1 qua vi dovete fare il conto questo ve lo faccio un attimo io ottenete meno 0,196 19,6 centimetri questa è la distanza dell'immagine dallo specchio ma mi è uscito negativo è impossibile no vuol dire solo che l'immagine del poliziotto è a destra dello specchio quindi voi se dovete disegnare l'immagine del poliziotto la vedrete qui da qualche parte a destra dello specchio perché mi è uscita di negativa a che mi serviva di mi serviva per trovare g tutto questo circo era per arrivare ad avere meno 0,196 quindi g è meno meno 0,196 occhio al doppio segno meno perché c'è meno di i quindi devo aggiungere un altro meno fratto 10 se fate il calcolo ottenete 0,0196 questo è g cosa significa che l'immagine del poliziotto è 0,0196 volte la dimensione reale dell'oggetto quindi ho scoperto quanto vale g posso finalmente trovarmi h i h i è uguale a g per h 0 0,0196 per 2 0,39 metri circa 39 centimetri cosa vuol dire che se guardate nello specchietto la dimensione effettiva dell'immagine del poliziotto nello specchietto è 39 centimetri se andate lì con un righello e la misurate vi viene 39 centimetri le lenti io mi concentro ve lo dico già sulle lenti sottili divergenti e convergenti in particolare andiamo a vedere i due casi principali che sono le lenti biconcave e le lenti biconvesse che sono nomi allucinanti per dire le lenti fatte così e le lenti fatte così quella sinistra si chiama biconcava perché è concava da due lati e l'altra si chiama biconvessa perché è convessa da due lati cosa dobbiamo fare con le lenti due cose vi vengono richieste di solito costruire l'immagine cioè fare la stessa cosa che fate con gli specchi e fare i calcoli vi avviso già le formule sono identiche a quelle degli specchi quindi non cambia niente rispetto a prima partiamo con la costruzione delle immagini e parto dalla lente biconcava quella sinistra di nuovo perché è la più facile delle due a soltanto un caso queste lenti sono anche chiamate lenti divergenti le lenti divergenti esattamente come gli specchi manco a dirlo hanno il centro il fuoco l'asse cioè le grandezze sono praticamente uguali c'è solo qualche piccola differenza che adesso vediamo questa è sempre l'asse cioè la linea che passa per il centro la particolarità è visto che ci sono due parti della lente che hanno quella forma curva ci sono due fuochi diversi uno a sinistra e uno a destra noi facciamo conto che le due curvature della lente sono uguali quindi l'f a sinistra è esattamente speculare dell'f a destra sono nella stessa posizione ma una sinistra e uno a destra cambiamo un po prima usato pikachu adesso usiamo charmander quindi abbiamo il nostro charmander piazzato qua vogliamo costruire l'immagine di charmander causata dalla lente che cosa mi fa vedere la lente la differenza con gli specchi è che voi stavolta non siete dalla stessa parte di charmander questa volta voi siete dall'altra parte della lente a osservare la situazione cioè voi siete qua il vostro occhio onnisciente stavolta è a destra perché mi metto di là e non dalla parte di charmander perché le lenti di solito quando le usate servono per guardare degli oggetti attraverso la lente gli occhiali cosa sono sono delle lenti e dei pezzi di vetro attraverso cui guardate gli oggetti non ha molto senso chiedersi che cosa succede se vi togliete gli occhiali cioè se vi mettete dalla stessa parte dell'oggetto non state usando la lente come si costruisce l'immagine con le lenti divergenti il principio è lo stesso dell'altro caso quindi prima cosa devo costruire un raggio che parte dalla punta dell'oggetto quindi andiamo sulla testa di charmander magari aspettate riduco un pelo charmander perché così è gigante sembra più gozilla partiamo dalla testa di charmander tiro un raggio parallelo alla lente come ho fatto con gli specchi questo lo chiamiamo raggio 1 e qui attenzione vale comunque la proprietà che i raggi paralleli all'asse devono passare per il fuoco e il problema qua però è quale fuoco esattamente visto che la lente è divergente utilizziamo occhio il fuoco a sinistra quello vicino all'oggetto traccio il raggio poi che passa per f perché ho tratteggiato la parte a sinistra e non quella a destra perché il raggio vero e proprio fa il percorso evidenziato e non quello tratteggiato cioè il raggio entra nella lente e poi viene sparato verso l'alto però il suo prolungamento passa effettivamente per il fuoco si chiama lente divergente proprio perché il raggio viene fatto allontanare dall'asse questo è il primo raggio il secondo raggio è quello che passa dal centro e uno qua può dirmi ma non hai mai disegnato il centro il centro della lente quindi tiro un raggio che passa per il centro della lente questa volta e tira dritto di qua la particolarità dei raggi che passano per il centro anche se il centro della lente non dello specchio è che non vengono alterati dalla lente quindi questo raggio 2 tira dritto per la sua strada come facevamo con gli specchi il punto in cui il raggio 1 e raggio 2 si incontrano è il punto dove si forma l'immagine loro si incontrano in quel punto giallo qui quindi noi vediamo l'immagine di charmander piccolino qua significa che si forma un piccolo charmander virtuale no vuol dire che voi vedete nella lente un piccolo charmander se nella realtà ci fosse un piccolo charmander in quel punto giallo e toglieste la lente vedreste la stessa cosa fine non ci sono altre casistiche per le divergenti adesso vediamo cosa succede però con le convergenti salutiamo charmander lente convergente altresì bicombessa anche questa lente ha due fuochi perché ha due curvature facciamo sempre finta che le due curvature siano uguali a sinistra e a destra della lente quindi due fuochi sono assolutamente speculari di nuovo chiediamo l'intervento dei pokemon facciamo piplop questa volta ragazzi prendiamo un piplop e ce lo buttiamo qui vogliamo sapere qual è l'immagine di piplop che si produce voi come sempre siete qui a osservare dall'altra parte della lente mi raccomando come costruisco l'immagine di piplop il punto di partenza è sempre sempre lo stesso parto dalla testa di piplop e creo un raggio parallelo all'asse questo è il raggio 1 questo raggio entra nella lente e poi sempre per la solita regola ogni raggio parallelo all'asse deve passare per il fuoco e qui di nuovo quale fuoco lente convergente cioè bicombessa questa volta usate il fuoco vicino a voi e non vicino all'oggetto questo qua qual è il secondo raggio è il raggio che passa per il centro ma non hai mai segnato il centro è il centro della lente essendo il raggio che passa per il centro della lente non viene alterato dalla lente dove si incontrano i due raggi si incontrano qui quindi l'immagine di piplop è a destra della lente questa volta ribaltata al contrario e leggermente tra l'altro rimpicciolita in questo caso vuol dire che si forma un piccolo piplop a destra della lente no vuol dire solo che se voi toglieste la lente e metteste un piccolo piplop a testa in giù in quel punto lì vedreste la stessa cosa che vedete con la lente poi lo so che voi siete bravissimi avete un grandissimo cervello e vi accorgete se c'è una lente o no ma qua parliamo di quello che all'atto pratico si vede fine questa è la costruzione con la lente biconvessa dove sta la fregatura che posso cambiare la posizione di piplop e se piplop quello originale non l'immagine lo metto più vicino alla lente in particolare oltre il fuoco devo un attimo cambiare tutti i giochi spostiamo piplop e lo mettiamo particolarmente appiccicato alla lente lo mettiamo qui costruiamoci l'immagine il metodo è sempre lo stesso parto dalla testa di piplop e traccio un raggio parallelo all'asse questo raggio entra all'interno della lente visto che sto andando a usare una lente convergente il raggio passa per il fuoco a destra così il secondo raggio deve passare per il centro della lente e qui di nuovo c'è una situazione un po strana i due raggi non si incontrano e quindi mannaggia non posso fare l'esercizio ma che bello no i due raggi non si incontrano ma i loro prolungamenti sì se io prolungo il raggio 2 di qua e il raggio 1 da quest'altra parte loro due effettivamente si incontrano in un punto il punto è questo cosa vuol dire l'immagine di piplop ce l'avete un pelino più indietro e ce l'avete ingrandita questo ragazzi è il principio di funzionamento delle lenti di ingrandimento che cosa fa una lente di ingrandimento vi fa vedere un oggetto più grosso e vi fa sembrare che sia un po più lontano di dove in realtà questa è un'immagine già che ci siamo per riprendere virtuale perché perché l'immagine si trova dalla parte opposta della lente rispetto a voi o se preferite è un'immagine virtuale perché è stata creata dai prolungamenti dei raggi e non dai raggi stessi a livello di formule cosa cambia rispetto a prima con le lenti assolutamente niente le formule sono le stesse identiche degli specchi queste sono le formule chi sono f di 0 di sono gli stessi di prima f è la distanza focale cioè la distanza tra il fuoco e la lente di 0 di sono le distanze dell'oggetto e dell'immagine dalla lente eccetera eccetera quello che cambia rispetto a prima è la regola dei segni per la f e per la di i attenzione f nelle lenti è considerata maggiore di 0 per le lenti convergenti cioè per intenderci queste perché le lenti convergenti hanno la f positiva perché se vi ricordate dalla costruzione delle immagini voi andate di fatto a usare il fuoco che sta dalla parte da cui voi osservate quindi dal vostro punto di vista il fuoco sta davanti alla lente mentre f è minore di 0 per le lenti divergenti cioè per le biconcave anche qua perché f è minore di 0 perché se vi ricordate il fuoco che andate a usare nella costruzione delle immagini sta dalla parte opposta rispetto al vostro occhio essendo quindi per voi dietro la lente f è minore di 0 qual è la regola per la di i invece di i è maggiore di 0 se l'immagine è reale cioè se sta tra voi e la lente se sta dalla vostra parte mentre di è negativa se l'immagine è virtuale cioè se vale il contrario vi ricordo che immagine virtuale vuol dire creata dai prolungamenti dei raggi cioè dietro la lente e vale sempre la regola che hi è negativa se l'immagine è girata al contrario facciamo un esercizio d'esempio un classico esempio di lente prendiamo una lente convergente è la lente delle macchine fotografiche le macchine fotografiche hanno delle lenti proprio di questa forma non proprio ma circa quindi questa immaginiamoci che sia una macchina fotografica volete fare la foto a un pokemon cambiamo di nuovo questa volta andiamo su le cose potenti c'è mio è passato un mio mio è molto molto raro gli volete assolutamente fare una foto così ve la potete tirare con i vostri amici mio si trova a un metro da voi meglio da un metro dalla macchina fotografica la vostra macchina fotografica ha una distanza focale di 50 mm cosa è la distanza focale è la f minuscola se qualcuno di voi è appassionato di fotografia sa che gli obiettivi delle macchine fotografiche hanno queste diciture strane f uguale a 50 mm 75 28 è questa roba qua è la distanza focale della lente che state utilizzando ci viene chiesto quant'è grossa l'immagine di mu sapendo che in origine mu è alto 50 cm inoltre ci viene chiesto dove si crea l'immagine non bisogna sapere praticamente nulla qua di raggi costruzione delle immagini qua si tratta di usare formule la grandezza dell'immagine è hi dobbiamo trovarci hi come trovo hi con l'unica formula che la contiene g uguale a hi fratto h0 h0 ce l'ho perché so che mu è alto 50 cm mi serve g come faccio a trovare g con l'altra formula di g ovvero meno di fratto di 0 di 0 ce l'ho perché è un metro mi manca di i come trovo di dall'unica altra formula che contiene di i 1 fratto f uguale a 1 fratto di 0 più 1 fratto di i da qua dentro tiro fuori di i perché tanto f ce l'ho ci è stato detto che è 50 mm di 0 ce l'ho perché abbiamo già detto che vale un metro e quindi sono a posto in linea di principio cioè a livello di formule questo è tutto quello che mi serve si tratta di fare i calcoli volendo possiamo già rispondere alla seconda domanda non con i conti ma a livello proprio di posizionamento dell'immagine dove si forma l'immagine visto che mi è a un metro dalla macchina e la distanza focale è 50 mm cioè il fuoco è molto più vicino alla lente rispetto all'oggetto se avete presente la costruzione delle immagini di prima potete in automatico dire che l'immagine che si produce si trova oltre la lente quindi a destra della lente ed è ribaltata al contrario l'immagine che si crea è di qua ribaltata in giù il che non vi deve stupire perché nelle macchine fotografiche qual è il principio è proprio creare un'immagine più piccola dell'oggetto all'interno della macchina poi cosa succede nelle macchine fotografiche lì dove si forma l'immagine qua c'è un sensore questo sensore rileva la luce che arriva dall'immagine e quindi di fatto riesce a registrarla sotto forma di fotografia facciamo i calcoli devo calcolarmi di i quindi lo devo isolare da qua dentro vi faccio il conto con le lettere questa volta quindi 1 fratto di i è uguale a 1 fratto f meno 1 fratto di 0 ho spostato 1 fratto di 0 dall'altra parte insieme a 1 fratto f faccio la mcm 1 fratto di i è uguale a f per di 0 al denominatore al numeratore questa roba diventa di 0 meno f a me però interessa di i mentre a sinistra c'è 1 fratto di i posso ribaltare tutte e due le frazioni sia quella a destra che quella a sinistra la frazione a sinistra diventa di i sarebbe di fratto 1 mentre a destra diventa f per di 0 fratto di 0 meno f e da qua potete farvi il calcolo perché questi li sapete f valeva 50 mm di 0 valeva 1 al denominatore invece avete 1 meno 0 0 5 vi scrivo calcoli non ve li faccio tutti ragazzi tanto l'abbiamo impostato ed è uguale a quello di prima all'esercizio 1 praticamente vi fate i vostri calcoli una volta che avete trovato di i tornate qui e vi trovate g una volta che avete trovato g andata all'equazione sopra e vi trovate quanto vale h i per trovarvi h i h i è g per h 0 nel mentre vi sarà anche capitato di rispondere con più precisione alla seconda domanda cioè dove si trova l'immagine perché una volta che avete trovato di i quella è proprio la posizione dell'immagine questa di e set a posto